Sospiro di sollievo per le condizioni di Romina Mior, la madre di 35 anni, uscita di strada domenica pomeriggio alle 16 in via Levada, a Sesto Reghena, al volante della sua Fiat 500, mentre stava rincasando a Cinto Caomaggiore, dove abita con la famiglia, proveniente da Cordovado, in compagnia dei figli. La donna, ricoverata all'ospedale civile di Udine, è stata dichiarata fuori pericolo, dimessi dal nosocomio di San Vito i piccoli della donna, una bambina di 5 e un bambino di 2 anni. Tra poche ore Romina Mior viene sottoposta a intervento chirurgico per una brutta frattura alla femore. A seguito dell'impatto si è procurata anche ferite al costato. A Cordovado, nella casa della famiglia Mior, è squilato il telefono per tutta la giornata di oggi. I piccoli avevano trascorso la domenica pomeriggio assieme ai nonni, prima dello schianto.